Purtroppo siamo dovuti tornare a questa udienza in biblioteca. E questo per difenderci dei contagi del Covid. Questo ci insegna pure che dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, siano le autorità politiche che le autorità sanitarie, per difenderci di questa pandemia. Offriamo al Signore questa distanza fra noi per il bene di tutti. E pensiamo, pensiamo tanto agli ammalati, a coloro che entrano già come scarti. Pensiamo ai medici, agli infermieri, le infermiere, ai volontari, a tanta gente che lavora con gli ammalati in questo momento, che rischiano la vita, ma lo fanno per amore, la sua vocazione per l'amore del prossimo. Preghiamo per loro. Grazie.